Si è tenuta nel weekend tra il 6 e il 7 maggio la 45esima Assemblea Nazionale dell'ACMA, Associazione Cacciatori Migratori Aquatici, che quest'anno ha avuto come sede il Parco del Conero. Una location non casuale, visto che quest'area protetta è divenuta un importante centro per monitorare alcune specie, tra cui la beccaccia, attraverso un innovativo sistema di telemetria satellitare. Un progetto che mette il Conero al centro dell'attenzione degli esperti di avifauna a livello europeo. È un punto particolare perché l'obiettivo è di trasformare il Conero in un punto di osservazione della migrazione. Per noi è un appuntamento in generale importante perché serve fare il punto sia della situazione di quanto noi stiamo lavorando per la nostra attività ovviamente ma soprattutto per l'ambiente perché alla fine della fiera il cacciatore è un fruitore ma come tutti i fruitori se non sa gestire e promuovere sia l'ambiente che la fauna non abbiamo futuro quindi per noi l'obiettivo è conoscere il meglio per poter gestire il meglio. Quest'anno per la prima volta grazie alla collaborazione tra Federcaccia, ACMA e Parco del Conero abbiamo fatto comunque sia questa ricerca sul Conero anche qui con telemetria satellitare per dimostrare la partenza effettiva della beccaccia e il periodo di partenza. Cosa si sta progettando per il Monte Conero? Siamo partiti con un discorso ben chiaro per la creazione di un osservatorio per la telemetria satellitare per il radar ecologico e per l'inanellamento di diversi migratori e poi non solo perché con il radar ecologico si quantificano anche gli insetti e tutto quello che gira intorno al mondo dell'ambiente ed è una cosa innovativa per il centro-sud Europa. Si parla sempre di ciò che divide il mondo ambientalista da quello dei cacciatori, potrebbe essere che quello della ricerca sia un punto che unisce i due mondi? Beh è quello che noi aspiriamo tutti o perlomeno noi che abbiamo una visione dell'area protetta sicuramente più dinamica non tutela e vincolo fino a se stesso ma un parco naturale assolutamente dinamico, vivo, vitale all'interno del quale si possono fare attività, si possa fare ricerca, si possa fare assolutamente l'attività che serve all'uomo al centro dell'ambiente e all'ambiente stesso per essere al centro dell'attenzione dell'uomo. Non solo la ricerca, dirò di più, noi senza il mondo della caccia, il mondo venatorio, in particolare i selettori non riusciremo a gestire la fauna e quindi è una collaborazione importantissima nelle aree protette perché nelle aree protette la caccia è vietata, però gli animali si riproducono e alcuni animali sono problematici mi riferisco ai cinghiali e senza la selezione, ossia un'attività che controlla la popolazione, ne tiene un numero sostenibile avremo grossi problemi sociali e ambientali. Tutto questo lavoro, oltre che a conoscere i misteri della beccaccia, potrà servire a che cos'altro? Parco Le Connero è interessato ovviamente a conoscere lo stato della popolazione delle beccacce una delle cose che abbiamo notato in questi tempi è che la beccaccia è anche un indicatore dei cambiamenti climatici perché essendo un animale che utilizza Connero in condizioni di inverni molto freddi perché è una zona riparata, idonea per vivere anche in inverni molto rigidi, con molta neve perché a parco del Connero solitamente non nevica, la variazione del popolamento delle beccacce dà anche informazioni sui mutamenti climatici nell'arco degli anni. Ma il Connero e la beccaccia non sono stati l'unico argomento dell'Assemblea che ha potuto valutare anche i risultati di studi su Alzavola, Folaga, Beccaccino e altri migratori tutti studi condotti da esperti ricercatori universitari Sicuramente è stato più interessante che riguarda sempre l'Alzavola che ci ha un po' sorpreso sotto molti aspetti questa migrazione estremamente lenta degli animali questa strategia che comporta anche delle attese relativamente lunghe in aree dell'est Europa che non erano state mai documentate che tra l'altro evidenziano ancora di più come è importante per la gestione di questi animali ma di dimensione europea e non solamente nazionale. Attraverso queste informazioni è possibile prevedere un periodo di caccia che è in linea con quanto previsto dalla legge 157-92 e quanto previsto dalla legge regionale delle Marche e per quanto riguarda le attività di prelievo siamo in grado attraverso questa analisi di redigere anche a livello regionale eventuali piani di gestione, piani di conservazione che da una parte possono anche prevedere un contingentamento di quelle specie in difficoltà come il beccacino ma dall'altra possono permettere di individuare delle misure agroambientali che aiuteranno senza dubbio questa specie soprattutto nei periodi in cui sono presenti in Italia. I dati sono fondamentali per il futuro della caccia ma anche come analisi continuativa di quella che è la nostra situazione reale. La situazione reale che va appunto affrontata non tanto con ideologie di parte ma con la conoscenza e la consapevolezza appunto dei dati cioè dello stato reale delle cose. Insomma una due giorni di confronto intenso e schietto che ha visto la federcaccia in prima linea anche per restituire all'attività venatoria quella valenza culturale non avversa ma amica dell'ambiente che da sempre ha avuto soprattutto nel mondo rurale. Quello che ti insegnavano nell'appennino maceratese o vascolano si va perdendo noi invece siamo come dire cultori custodi di determinate storie che affascinano i ragazzi, i bambini, le persone che non sanno e cerchiamo di trasmettere loro anche attraverso questa attività che è quella del cane, quella dei palombaci, quella di costruire un capanno quello dello stare insieme, di spiegargli che cos'è il senso della comunità della collettività, della ruralità e del preservare l'ambiente perché senza di quello dove andiamo? Grazie. Grazie.